Ciao a tutti, sono Narotus, bentornati sul mio canale, sono qui per annunciarvi che come ogni lunedì anche questa sera ci sarà Glitchard Super Show dalle 9 alle 23.30 circa e potrete trovare in descrizione il link per vedere in contemporanea la live mia e di Mac di Glitchard che sarà cadgar.net slash live slash Glitchard slash Narotus Games e ci accompagneranno inoltre come ogni sera Mazinga Z192 alla mente di Edux tuttavia in descrizione potete trovare un altro link molto interessante poiché questo GHSS sarà dedicato interamente alla raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto di qualche giorno fa che ha devastato il centro Italia infatti aderiamo alla raccolta fondi lanciata da Tom's Hardware con CiccioGamer al di là del partner che può non essere mio al di là dello youtuber con cui si possono avere idee diverse o si possono coprire giochi diversi l'importante è riuscire a trovarsi uniti sotto un'unica bandiera, sotto un unico fronte nel momento in cui c'è bisogno di dare una mano a qualcuno nel momento in cui è necessario essere solidali e uniti per non lasciare sprofondare nella bratta altre persone per questo durante la live troverete in descrizione ai nostri canali Twitch un link che porterà direttamente alla pagina Apple che è un sito di crowdfunding ovvero di raccolta fondi da parte della gente che disposta a donare dove potrete scrivendovi gratuitamente donare a piacere da 5 euro in su una cifra a sostegno delle popolazioni in quanto alla fine della raccolta fondi verranno destinati tutti i soldi raccolti per ora siamo sui 9.000 euro se non sbaglio a un'associazione non a scopo di lucro che sta operando sui territori devastati dal terremoto è un'iniziativa a cui ci faceva piacere aderire avevamo pensato proprio assieme di cercare di fare qualcosa e da nulla è sbucata questa iniziativa di Tom's Hardware abbiamo detto allora prima di andare per lagarci in dei casini a fare tutto noi aderiamo a loro che sicuramente sono più preparati di noi e comunque l'importante è dare assolutamente una mano i link li trovate tutti in descrizione quindi mi raccomando stasera più delle altre serie non mancate perché cercheremo di fare qualcosa di più cercheremo sempre di divertirci di giocare assieme ma anche di dare una mano a chi purtroppo è stato meno fortunato di noi ci vediamo questa sera dalle 21 alle 23.30 mi raccomando non mancate e mi raccomando condividete questo evento oggi più che mai perché più siamo più possiamo dare concretamente una mano a queste persone ci vediamo questa sera ciao a tutti ragazzi